Amici e amici di Rossini TV, siamo in piazza del popolo, nel cuore della città, siamo sotto l'albero di Natale, davanti al presepe, ancora c'è atmosfera natalizia, questa è la grande querelle del momento sul discorso dei saldi, siamo ancora in atmosfera natalizia, la stagione sembra addirittura dal punto di vista atmosferico non essere nemmeno iniziata, ma oggi 5 gennaio iniziano i saldi. Noi siamo qua per andare a raccogliere qualche commento, qualche parere, qualche voce. Venite con noi. Abbiamo notato che è stato caldo finora, quindi abbiamo tanti prodotti belli, prodotti di qualità, quindi penso che adesso con i saldi si venderanno tutti molto più in fretta di quello che si pensava, anche perché è arrivato il freddo. Abbiamo tutta la collezione a 30% e invitiamo a tutti di venire a conoscere i prodotti, siamo aperti tutti i giorni. Ancora non possiamo parlare delle vendite, però della strategia aziendale d'attacco sì. Esattamente, ma guarda il periodo storico è quello che è, lo conosciamo, però c'è entusiasmo, c'è voglia di fare, di comprare, c'è energia. Noi facciamo di tutto affinché i clienti possano sentirsi a proprio agio, applicando anche degli sconti ulteriormente scontati dai prezzi che già vendiamo, dove già applichiamo uno sconto importante. Quindi in modo tale facciamo così che ci sia la possibilità che tutti possano approfittare di prezzi convenienti, un'ampia scelta e un'assistenza che possano quindi acquistare quello che preferiscono. Abbiamo già un prezzo scontato di cartellino, andiamo dal 30% fino al 50% su tutto. Abbiamo iniziato appunto questa mattina, quindi ancora è da vedere la strategia, comunque sono tutti prodotti nuovi della stagione che vanno in saldo al 30% al 50%. Quindi non abbiamo le cose delle stagioni passate, ma abbiamo esclusivamente prodotti nuovi, capi nuovi. Ci siamo organizzati, stiamo preparando prezzi, abbiamo preparato gli stand con vari percentuali di sconto. Adesso siamo qua, oggi iniziano i saldi e quindi ci aspetta un bel periodo. Che aspettative avete? Soprattutto è tutto in saldo oppure c'è qualcosa che non è in saldo, sul quale però c'è qualche idea? Allora, qualcosa non è in saldo, tipo i continuativi che abbiamo sempre, come le t-shirt bianche e nere classiche e anche le 991, però abbiamo delle promozioni che chi acquista i saldi ha un buono sconto del 15%. Quello lì vale proprio su tutta la merce, anzi anche sulla nuova collezione che ci arriverà a breve. Su questa stagione, che non si capisce se deve ancora iniziare, qual è il tuo parere? Ma io penso che adesso arriva il freddo, adesso arrivano anche i clienti con i prezzi buoni, quindi partiamo dal 30 e dopo fino alle scorte.